Accordi il tuo cuore come torno dal cielo? Questo me lo ricordo ancora in taiwanese. Se volete sentire un po' di te, la teglia proprio c'è prima cosa. Il tuo cuore è contento quanto lo fai per voi. C'è sempre chi è più bravo e più bravo che riesce di più e di meno. Ma tu ricorda, tu come pensi? Ogni uomo ha una stella. Ogni stella sfruttore. Accordi di persone come toni salami. Per dire, dopo il cielo. Bene. E grazie per l'esporto.